allora ragazzi mi raccomando lavorate mi raccomando mi fido di voi te fai l'avantreno te fai il retrotreno che ragazzi questo weekend abbiamo la prima di campionato nazionale quindi lavorare sodo non battete la fiacca che io devo fare il video per loro quindi ragazzi è un video importante mi fido di voi ragazzi oggi parliamo delle molle degli ammortizzatori quindi ragazzi eccoci qua mentre i miei meccanici lavorano duramente per finire la macchina per la gara di nazionale domenica noi parliamo delle molle a cosa servono le molle le molle servono semplicemente a tenere sollevato il telaio e a supportare tutte le masse sospese oltre a questo le molle oppongono resistenza ai movimenti che il telaio ha durante la marcia e da cosa sono generati questi movimenti sono generati dalle forze che entrano in campo quando noi acceleriamo freniamo sterziamo oppure saltiamo o più semplicemente troviamo degli ostacoli sul tracciato in linea generale una molla morbida darà più rollio e beccheggio alla nostra auto mentre una molla dura ridurrà questi due parametri facendo un rapido cenno anche sull'olio degli ammortizzatori molti pensano che con un olio molto duro molto morbido si possano limitare di molto questi movimenti ma in realtà non è esatto semplicemente saranno più rapidi o più lenti parlando adesso di durezza della molla che chiaramente è uno dei parametri che caratterizzano le nostre molle una molla più rigida darà meno trazione quindi ridurrà la trazione renderà la macchina più reattiva ed in molti casi salterà anche più in alto e meglio una molla morbida farà esattamente il contrario indurendo le molle anteriori avremo più reattività della macchina e perderemo sterzo a centro curva ammorbidendole farà il contrario indurendo le molle posteriori avremo più stabilità ad alte velocità sotto motore e chiaramente avremo più sterzo più scivolamento meglio a centro curva avremo anche maggior rotazione della macchina se arriviamo molto forte in una curva quindi nelle curve ad alta velocità mentre nelle curve a bassa velocità avremo meno sterzo per curve a bassa velocità non vuol dire quelle che si percorrono a bassa ma quelle che si arriva che non abbiamo spazio per dare un'accelerata talmente forte che possa consentirci la rotazione veloce della macchina ammorbidendo farà esattamente l'opposto tendenzialmente induriamo o ammorbidiamo le molle in base al grip della pista la tenuta generale della pista per avere più o meno rollio quindi con molle più morbide avremo più rollio con molle più dure bisogna sempre tenere presente che se abbiamo una macchina troppo piatta in curva con pochissimo rollio a 99,999% avremo anche qualche piccolo problema di scivolamento ma attenzione lo avremo anche se una macchina rolla veramente troppo perché c'è un punto dove si va fuori dai rangi di lavoro della macchina e questa purtroppo si trasformerà in un testa coda sicuro nonostante non stiamo parlando di oli e pistoni degli ammortizzatori faccio lo stesso un cenno l'olio solitamente segue la molla quindi difficilmente andrà bene un olio molto morbido con una molla molto dura o una molla molto morbida con un olio molto duro però è vero sempre che il modellismo non è una scienza esatta quindi chiaramente dico queste cose perché possano essere smentite ovviamente potrete trovare la condizione particolare dove chiaramente avrete dei vantaggi a andare come ho appena detto il diametro del filo con il quale è costruita la molla darà la frequenza della molla stessa e al contrario di quello che si possa immaginare un filo armonico più fine renderà la macchina più agile e più reattiva mentre un filo armonico più duro farà il contrario e adesso invece ragazzi parliamo della lunghezza della molla tutto il video tutte le premesse che ho fatto fino adesso servivano a portarmi fino a questo punto alla lunghezza della molla perché solitamente lavoro moltissimo sulla lunghezza delle molle in che modo dovete tenere presente che una molla più lunga darà stabilità e dolcezza nel punto in cui è montata quindi ad esempio una molla anteriore più lunga darà minor aggressività di sterzo la macchina smuserà di più una molla ammorzatori più lunga al posteriore darà più grip quindi la macchina sarà meno scivolosa di retrotreno al contrario una molla più corta darà reattività nel punto in cui l'abbiamo montata quindi se lo usiamo davanti avremo uno sterzo più reattivo e più agile se lo usiamo dietro avremo più scivolamento di posteriore detto questo noi piloti chioscio siamo molto fortunati non conosco cosa accade con le altre macchine ma in chioscio abbiamo ben quattro lunghezze di molle abbiamo le molle da 70 mm da 81 mm da 85 mm e da 94 mm quindi IFS 001 dei vari colori sono molle da 70 millimetri IFS 002 sono molle da 81 mm IFS 003 sono molle da 85 mm e IFS 004 sono molle da 94 95 mm ma attenzione IFS 004 sono soltanto grigie arancio e azzurre quindi solo con filo da 1,4 mm io ad esempio ho abbandonato il filo da 1,4 mm per usare praticamente quasi sempre il filo da 1,5 mm e quindi le molle rosa rosse e blu ma attenzione ragazzi attenzione ho trovato i codici delle molle da traghi che mi danno altre due lunghezze le anteriori da traghi sono 88 mm quindi vengano buone per il posteriore della nostra mp10 tk i2 e le posteriori del traghi sono 94 mm ed esistono anche queste rosa rosse e blu quindi ragazzi io come lavoro gestisco lo scivolamento del posteriore con la lunghezza della molla ad esempio sto andando ormai molto spesso con rosso anteriore e rosa posteriore e per l'anteriore ho due scelte la 70 e la 81 che sarebbe la posteriore della tk i1 mi sono accorto che la 81 senza precarico da un'altezza da terra di 22 23 mm quindi è perfetta per l'anteriore della nostra mp10 tk i2 con i setup che sto usando io nel posteriore invece abbiamo ben quattro alternative la ifs 002 da 81 molto precaricata chiaramente abbiamo la ifs 003 da 85 abbiamo la iss 001 da 88 anteriore del traghi e la iss 002 da 95 con la iss 002 da 95 si danno due giri di ghiera e siamo all'altezza ottimale una volta snervate da nuove sono tendenzialmente più quindi nel posteriore su pista d'altissimo grip possiamo andare con le rosse del traghi posteriore da 95 quindi ricapitolando montate le molle da 81 ifs 002 sull'alteriore quando volete la macchina meno reattiva più tonda di sterzo e montate le ifs 001 da 70 quando volete la macchina più aggressiva al posteriore ragazzi partite da un extra grip che vi da la molla del traghi lunghezza 95 fino a un grip una macchina molto reattiva con le 81 ifs 002 come sempre ragazzi spero di avervi dato buoni consigli mettete una valanga di like se vi piacciono i video di questo tipo e ci vediamo il prossimo mercoledì con un video stellare ciao 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 ciao